A pregare? A pregare? Vabbè, vabbè, per me se non sono materiali, ti voglio arrivare, non mi ricorda. Se ti metto, ti voglio arrivare, non mai. Ma vado a metterla, vado a metterla. Ma vado a metterla, vado a metterla. Ma vado a metterla. Ma vado a metterla. La 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 la